Chiara Ferragni è stata sorpresa ad Halloween a Milano in dolce compagnia di Giovanni Tronchetti Provera. E dopo nemmeno 48 ore, Fedez ha risposto a distanza alla sua ex moglie, venendo filmato in un locale di New York mentre baciava con grande passione una giovane ragazza. Il video è stato pubblicato in esclusiva dal giornalista di Dago Spia Alberto Dandolo ed è diventato subito virale, mostrando il rapper pomiciare davanti a tutti come se non ci fosse un domani. Fedez è single e non sta facendo nulla di male, anche se l'identità della ragazza non è stata resa nota. Molti utenti hanno commentato il video con opinioni contrastanti. C'è chi ha sostenuto che Fedez faccia bene a divertirsi essendo libero da vincoli sentimentali, chi ha criticato il suo comportamento da adolescente e chi ha ipotizzato che abbia fatto apposta a lasciarsi riprendere per finire di nuovo al centro del gossip. Ciò che è certo è che sia lui che la Ferragni hanno decisamente voltato pagina dopo la fine del loro matrimonio. Inoltre è emerso che anche Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni, è tornata single mentre il matrimonio della figlia stava finendo. La scrittrice ha confermato che la sua relazione con l'imprenditore americano Frank Keltz è terminata un anno fa, poco prima che la figlia affrontasse lo scandalo dei Pandori e la crisi con Fedez che ha portato al divorzio. Marina Di Guardo ha smentito le voci che la volevano sopraffatta dagli eventi della figlia e incapace di gestire la scuola.